A Grosseto, dove da poco la prefetta, nonché moglie del ministro Piantidosi, ha firmato la nuova via Almirante, ora a destra se le danno di santa ragione per Udite Udite, l'ormai famoso libro del generale Vannacci. Il consigliere comunale leghista Gino Tornusciolo accusa i suoi colleghi di Fratelli d'Italia. Spiega Tornusciolo aveva organizzato l'incontro con il sindaco nella sala del consiglio comunale. Ho quindi comunicato l'evento ai partiti della maggioranza e a quel punto Fratelli d'Italia ha cominciato a porre un veto ritenendo poco opportuna la presentazione del libro in città, portando di fatto a un diniego del patrocinio e innescando un dibattito nella maggioranza. Purtroppo, chiude Tornusciolo, devo ammettere che è stata la stessa maggioranza a cui appartengo a impedire lo svolgimento del dibattito. Il prode generale, captati i prodromi di una polemica, s'è eroicamente dileguato, rinunciando alla presentazione. Da Fratelli d'Italia rispondono andandoci pesante. Rimaniamo piuttosto esterefatti, dicono, davanti a cose infantili accuse, comprendiamo la voglia di ritagliarsi uno spazio politico, ma invitiamo a farlo nel rispetto dei ruoli e magari con argomentazioni propositive e non con queste sterili e inutili uscite, dice il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Luca Minucci. Perfino i compagni di partito di Giorgio Meloni devono aver pensato che patrocinare un libro che a zanna gay e neri non fosse un'idea intelligentissima. E quindi? Quindi ora il leghista può trascorrere i prossimi giorni a denunciare l'oppressione del pensiero unico proprio come suo amato generale. Finché non ci si renderà conto che il rifugire dalla cretineria è tutt'altro che un complotto.